Notizia super short dal mondo dell'arte, il Noor Riyadh Festival continua ad illuminare le strade di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, con 120 circa installazioni luminose di grandissimo formato, si tratta di progetti di arte pubblica firmati da grandi artisti legati al mondo dell'arte concettuale stretta, tra i quali Marinella Senatore, l'italiana Marinella Senatore, il tutto accompagna una mostra che si sta svolgendo in questi mesi al Riyadh Art Center.